buongiorno giorno 11 ragazzi abbiamo appena visto un treno pazzesco non pensavo neanche esistesse una cosa del genere un treno lussuosissimo con dentro addirittura una vasca da bagno tipo iacuzzi cioè pazzesca salotti sala ristorante lussuosissima wow siamo arrivati così stiamo aspettando il nostro misero treno thunderbird per andare da osaka a kanazawa ludo siamo appena arrivati a kanazawa qua c'è una fiamma qui sotto sì carne invece ho preso il pollo con tempura su per il miso riso e altre cose abbiamo una bolla salmone avocado riso ovviamente sotto e frittatina tutto con il semi di sesamo poi bisogna prendere questa acqua calda e immergere un effetto fantastico insalatina tutto di miso abbiamo ordinato presente un gelatone enorme gelato canna frutta oreo ed è veramente bellissimo adesso lo sentiamo il mercato del pesce magari ci facciamo qualche assaggio di pesce crudo non vedo l'ora andiamo a vedere il tempio shintoista non vedo l'ora dopo questo viaggio io e paolo andremo a fare un altro noi due da soli mi raccomando continuate a seguirci iscrivetevi nel canale cliccate sulla campanella per non perdere i prossimi video adesso non c'è da soli mi bagna Grazie a tutti.